Maurizio Peccarisi da grande ex Biancorosso è un grande dispiacere immagino? Sì, direi che soprattutto dispiacere inaspettato perché pensavo che fino alla fine la società dei Rimini riuscisse a iscrivere la squadra però purtroppo già da qualche tempo aveva detto che non l'avrebbe fatto e così è stato. Adesso sinceramente vedere i Rimini fuori dai campionati professionistici mi piange anche un po' il cuore però poi non lo so le situazioni societarie perché hanno portato a questa decisione. Conoscendo anche la società, che è una società solida, è la prima società di calcio non iscritta che non fallisce, ti aspettavi questa cosa? A vedere altre società di calcio che hanno veramente dei grossi problemi economici, che comunque non fanno fatica a pagare lo stipendio alla fine del mese Diciamo che questo qui alla fine è uno smacco a queste società che hanno dei problemi. Credo che sia l'unica società ad aver chiuso baracca non avendo problemi economici. Paolo Bravo, grande ex Biancorosso, è sicuramente una notizia difficile anche da mandare giù? Sì, una notizia, ripeto come hai detto, è difficile, una notizia che non pensavo potesse diventare realtà e non voglio entrare in merito a, ripeto l'ho già detto, a discussioni politiche o amministrative perché non ne ho i dati e le basi. Dico solo che comunque una città come Rimini perdere comunque un'attività sociale che unisce tanti sportivi è sempre un peccato e Rimini secondo me come città non la doveva perdere. Hai vissuto i momenti migliori della storia del Rimini, il momento più alto, l'apice? Sì, ho vissuto credo gli anni più belli che ha fatto Rimini, con grandi ambizioni, abbiamo sfiorato la Serie A e il rammarico è quello, ti ripeto, di avere probabilmente lasciato tutto e non avere, ti ripeto, non resta più niente, resta un po' di storia e basta e quindi è la cosa più triste, la cosa più triste è vedere anche magari tanti dipendenti così che dall'oggi al domani si ritrovano senza un lavoro e senza una passione perché comunque anche la passione nella vita è molto importante, spesso si scambia la passione col denaro, col lavoro perché comunque, ti ripeto, la passione è una fonte di vita per l'uomo e quindi questo, ti ripeto, lascia molto di stucco, ti ripeto, l'ho già detto e non voglio entrare in certe situazioni, in certe discussioni, però in una città è giusto che si faccia anche qualcosa per la città. Il tuo pensiero per i tifosi biancorossi? Che dire, è una cosa che fai fatica ancora a collocare nella testa perché comunque c'è gente che si è appassionata, gente che ha voluto bene a Rimini, gente che gli vorrà sicuramente bene, probabilmente magari in un momento di difficoltà ho visto squadre sparire e poi ritornare dove erano stati e magari nella difficoltà si fortifica magari una certa passione e quindi cerco di prendere il lato positivo, spero che in un momento così di difficoltà si riescono a trovare le forze, le energie per ripartire e riportare Rimini a quello che merita. Da un ex a un altro ex, Stefano Di Fiordo, grande dispiacere per questa notizia. Grandissimo dispiacere, poi soprattutto per noi che abbiamo giocato qua diversi anni, dove abbiamo fatto insomma la scalata dalla C2 alla B, quindi ci siamo stati dentro, siamo tuttora attaccati a questi colori e vedere insomma che il calcio finisce così a Rimini è un grandissimo dispiacere, sia per noi che ci siamo stati e soprattutto per la gente di Rimini. Tutto purtroppo vanificato da questa decisione, anche i vostri sforzi sul campo, anche se ci sono stati degli anni molto molto belli. Penso che quello che è stato fatto nel passato nessuno lo dimenticherà, adesso purtroppo la realtà del Rimini calcio è questa. Io in questo periodo ho seguito un po' attraverso la stampa, poi parlando insomma con alcuni miei amici qua di Rimini un pochettino la situazione ho seguito e devo dire che dal mio punto di vista che con poco si poteva insomma salvare il calcio qui a Rimini. Insomma, da quanto ho capito la COCIF cercava qualcuno, qualche imprenditore qua della zona che gli potresti dare una mano. Questo guardando i fatti non c'è stato, quindi il dispiacere è enorme. Adesso da dove si riparte? Tu sei mister promozione e magari potresti dare una mano? No, vabbè adesso la mano più grande penso la deve dare la gente del posto, gli imprenditori che quantomeno riprendono il Rimini calcio e lo riportano insomma nei pozzi dove medita ecco, soprattutto quello è la cosa importante. Mettere le basi insomma per un futuro. Sandro Porche, altro grande ex bianco-rosso, insomma è un giorno davvero molto molto triste. Guarda, faccio sinceramente fatica a crederci, credo che sia una notizia che vesti tantissimo malumore in città ma dopo tutti gli anni vissuti alla grande con la COCIF credo che la sparizione della Rimini calcio sia una sconfitta un pochettino da parte di tutti. È un peccato perché faccio ancora fatica a crederci, come tantissime persone anche da tutta Italia, una società seria come la COCIF ha dimostrato tantissima serietà in tutti questi anni ha preso questa decisione, purtroppo bisogna accertarla perché è stata diciamo l'unica, gli unici imprenditori che hanno portato avanti la Rimini calcio e sinceramente stamattina quando leggevo le locantine facevo fatica a crederci sinceramente. Credo che purtroppo sia un giorno da ricordare in negativo questo qui e l'augurio più grande qual è? È quello che qualcuno magari faccia risorgere il calcio qui a Rimini perché sinceramente se chiamo qualcuno magari giù in Calabria e dice che Rimini calcio non si è scritto a campionato magari dicono ma che stai dicendo? È uno scherzo, è pure la verità. La cosa più difficile ad accettare è che si sono mosse imprenditori da fuori Rimini ma non si è mossa la realtà imprenditoriale riminese. E questo mi lascia un pochettino di stucco perché credo che persone che magari possano prendere la società che potevano prendere la società oppure danno una mano alla Kochev credo che ce ne siano e questo purtroppo non si è verificato. È un peccato perché vedere Rimini dove magari si è sforata la Serie A due o tre anni fa, dove c'è stata la Juventus ci sono state tantissime squadre blasonate e poi vederla sparire così è un grossissimo peccato.